Passare dal testo a un video con intelligenza artificiale, ovvero scrivere una linea di testo e avere in output un video con il testo che è specificato, è possibile? Ebbene sì, in questo video vediamo i prossimi tool che sconvolgeranno del tutto il settore della videoproduzione. In generale permetterà a chiunque di creare video con una singola linea di testo. Allora, questi tool devono ancora essere sviluppati al meglio, però già vediamo in questo video le potenzialità. Guardando questo video avrete tutta la conoscenza che vi permetterà poi di essere pionieri in questo ambito. Quindi mi raccomando guardatelo perché è un video molto informativo, con tante informazioni che possono letteralmente aprirvi nuovi scenari. Vediamo cinque o sei tool in questo video, ok? Ora diamo tutto il punto. Prima però, mi raccomando, ragazzi, se non siete iscritti e volete essere sempre aggiornati sui temi di intelligenza artificiale, dovete seguire il canale e accendere la campanellina perché veramente il mio compito è quello di riportare, divulgare, educare le persone sull'ambito del web 3. Nel web 3 c'è anche l'intelligenza artificiale, ok? Quindi questo è un mio obiettivo. Cercherò di spiegare sempre i concetti in maniera semplice, concisa e chiara. Alcune volte fallirò, alcune volte andrà un po' meglio, però questo è il mio obiettivo. In maniera genuina voglio, con spirito di condivisione, condividere con voi tante informazioni. Ok? Detto questo, andiamo dritti al video. Il primo tool che voglio presentarvi è Hollywood 2.0. Ragazzi, questo qui è un tool fantastico. Guardiamoci insieme quello che può fare e poi ne commentiamo. Ragazzi... Guardiamoci insieme. Ragazzi, non so se vi siete desi conto quello che sta facendo questo tool. Sta effettivamente trasformando le labbra, quindi il movimento della bocca, fondamentalmente per ogni lingua. Cioè nel senso che grazie all'intelligenza artificiale cambiano l'apertura della bocca in base alla lingua. Quindi c'è una cosa che mi ha sempre infastidito, guardando video in lingua tradotta, quindi doppiati, c'è sempre questa cosa fastidiosa che muovono la bocca e in realtà dicevano altro. Questo è un tool di intelligenza artificiale che ti permette effettivamente in maniera automatica di cambiare il lip sync delle persone che parlano in base alla lingua che tu hai. E questa è una delle prime applicazioni che viene fatto con questo tool. Immaginate quello che si può fare, si possono effettivamente cambiare anche le varie facce. Quindi se andiamo un attimo su Product, andiamo a vedere come funziona. Ora riusciti in questo stupido livelloende ca ... Ha fatto un giudegno, quindi siamo in più e che uscite in disoluzione, tutto per me. ragazzi non so se vi siete resi conto della potenza di questo tool e sempre di più andranno in qualche modo a ampliare questo tool perché se riescono a mappare la faccia, a mappare le espressioni immaginate quello che si può fare e qui ragazzi lo dico, i deepfake diventeranno talmente fake che sarà effettivamente un problema perché se io riesco a prendere la faccia di qualcuno parlare e fare finta che sono quella faccia lì e quindi far parlare ad esempio Joe Rogan piuttosto che Obama eccetera è abbastanza preoccupante quindi questo è uno dei problemi che effettivamente vedremo con l'intelligenza artificiale andiamo al secondo tool il secondo tool è questo the next step forward for generative AI ragazzi questo veramente è fuori test se quello prima è un'applicazione un po' verticale questo invece sarà la portata di tutti guardiamo un attimo l'explanet insieme perché effettivamente ancora devono essere rilasciati ma breve li rilasceranno e voi siete pronti per utilizzarli al meglio image generation models have taken the world by storm mass adoption of the technology today Runway is excited to introduce the next step forward in generative AI Gen 1 a video generation AI system that can efficiently generate video in any style all while retaining quality and flexibility ragazzi avete capito cioè cos'è che ha fatto? gli ha fatto un'immagine di riferimento gli ha fatto vedere il video questo video è cambiato in massa l'immagine di riferimento quindi il primo modello è la stilizzazione per esempio è un video in cui tu ti muovi e poi gli dici voglio che sia un demone infuocato e viene fuori questo video qua ragazzi quindi ricreiamo fondamentalmente una situazione geometrica diciamo questi sono grattacieli quindi tu fondamentalmente con dei libri puoi creare una skyline di New York o di grattacieli New York perfetto tu riesci a dare uno stile ben preciso a un solo un pezzo del video perfetto hai dei modelli 3D li puoi renderizzare come vuoi perfetto tu hai il modello gli metti immagini in questa immagine e fa la stessa cosa ma con il modello dell'immagine anche questo ragazzi ragazzi questo sarà Gen 1 tra tutti e quello che ha più potenza dei tutti a mio avviso sarà per me disponibile molto a breve e non so se avrà un costo penso di sì però ragazzi quello che fa guardate guardate cioè è veramente eccezionale ok andiamo al prossimo tool il prossimo tool ragazzi è qualcosa molto richiesto ovvero passare fondamentalmente da un'immagine a un modello 3D fondamentalmente che può essere animabile appunto tramite video quindi tu crei un'immagine di paint semplicemente questa è l'immagine iniziale e questi sono i modelli 3D che puoi utilizzare nei video già fatti all'uso pronti all'uso che possiamo effettivamente utilizzare per video animazioni 3D ragazzi guardate che roba cioè è fantastica questa applicazione una applicazione che semplificherà molto il mondo del 3D modeling il tool è questo deve essere ancora rilasciato però ragazzi questa è una chicca assurda assurda e poi ragazzi come non citare mecca video di Meta di ex Facebook ok che sta creando effettivamente un texto video quindi questo qui è dog wearing a superhero outfit with a red cape flying through the sky ed eccoci qua il dog questo teddy bear painting a portrait eccolo qua robot dancing in ten square eccolo qua tutti questi sono video generati da una linea di testo e questi modelli a mio avviso andranno veramente a essere rilasciati a breve ad esempio possiamo animare una foto ragazzi ragazzi è tutto un dire le potenzialità di questi tool ok input video questo poi make video output eccetera cioè ragazzi questo qui e poi dolciti in fundo cito anche google con il suo modello guardate è molto bello il modello di google la qualità per me è quella superiore sempre texto video quindi questo qui è a panda bear driving a car e ragazzi questo è un video fatto molto carino questo qui sembra a clear wine glass with proquoise color waved inside ragazzi questo c'è una qualità molto interessante guardate anche questa teddy bear running in New York City ragazzi è fantastico a mio avviso la qualità almeno in output migliore lo ha questo modello appunto di google e stiamo parlando sempre di un paper di ricerca non abbiamo ancora niente di lasciato però ragazzi a breve arriverà in region ok ragazzi in questo video è tutto volevo solo darvi una 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 finestra sul futuro del di come l'intelligenza artificiale possa essere applicata al mondo e ai ragazzi se siete eccitati come me perché venire a vedere queste cose io veramente sono eccitato perché sono appassionato di innovazione sono master anche innovazione quindi tutto ciò che è innovazione a me esalta a dir poco detto questo se vi è piaciuto volete rimanere aggiornati perché quando questi tool verranno rilasciati sarò il primo a comunicare appunto come utilizzarli come fare se costano se non costano come utilizzare seguitemi seguite seguite il canale accendete la campanella per supportarmi in tutta questa mia condivisione in modo più semplice un like e un commento poi se siete interessati potete anche comprare il manuale con i centri non mi va a fare adesso la cosa commerciale quindi chiediamo quel video io vi ringrazio enormemente il tempo che mi avete dedicato detto questo si più che ti off la prossima la prossima